già sta in posa gildarella mi stavi aspettando un bel dolcetto adesso qui ci sono quattro albumi e io monterò a neve vai adesso l'ho montati a neve e qui ci sono quattro tuorli e metto insieme 120 grammi di zucchero e vado a montare andiamo a vedere un po qui ho montato bene anche i tuorli e adesso aggiungo la farina e 120 grammi ecco un po alla volta un pochettino alla volta ecco qua così guardate che bella mamma mia che belle uova angelina grazie delle belle grazie angelina ecco qua e adesso giriamo piano piano ecco adesso mettiamo gli albumi montati che nuvoletta poi dall'alto al basso è così ecco fatto vedete adesso metto un un pochettino di sale e poi lo andiamo a mettere nella teglia eccolo qua vedete guardate che bello andiamo a vedere che meraviglia ecco qua adesso indurro la carta forno ecco adesso mettiamo che momento bellissimo che è questo l'impasto eccolo qua eh allora vediamo un po ecco qua come stende ecco qua eh beh una sistematina gli ce vuole perché certo bisogna appianarlo e tu brava gildarellina nostra va vai ciappa tutto gildare fino all'ultima lacrimuccia eccolo eh fatto gildarelli ok adesso lo vado a mettere in forno al forno già caldo a 180 per 15 minuti controllate sempre eh mi raccomando va bene cara andiamo ad infornare eccolo eh sfornato eccolo qua eh come scotta va rotolato caldo gildarelli certo la forma adesso lo lasciamo un po' così eh va bene amore e dopo lo farciamo allora lasciamo riposare così o lo farciamo o riempimo o riempimo cominciamo a fare la farcia gildarella dici tutto vai allora 250 grammi di cioccolata spalmabile eccola qua vedete goduria e poi allora e 250 grammi di mascarpone che io adesso vado a girar tutto allora questo per il rotolo eh guardate mamma mia quanto mi piace sta crema mi sono cascati l'occhi qua vedete allora io questo l'ho fatto ieri e l'ho lasciato arrotolato perché lo dovevo fare oggi così ha preso forma così ha preso la forma non ve se rompe ecco qui magari lasciatelo così che se dopo tirate e adesso io ci vado a mettere la crema semplice avete visto che bella cremina semplice semplice ecco qua ce la spalmiamo tutta tutta quella che ce l'ha tutta tutta ce l'ha a girarè namo va dai e va qua eccolo qua eh questa aspetta quanta abbondanza cia la mettiamo qua certo certo eh Annam Lösung esce da qua e mettemo di là ahahahahah oh è piaciuta questa mia mi è piaciuta questa mamma mia ecco qua ci darei tutto quello che fai a noi ci piace dai su dolce salato quello che è meraviglia ecco fatto e adesso montiamo la panna che poturi ha qua ragazzi che poti che fa mmmm vai giddare vai con la quarta ahahahahah ecco qua eh faccio le richine perchè questo è un bel tronchetto allora noi siamo originali eh questo è il tronchetto della felicità proprio quello della felicità che poi sono una magnata ricamini mamma mia c'ho la colina in bocca te possi no dai con queste siringhe giddare qua ecco qua eh ecco la cremina che vi rimane qui dentro mettete la bagnomaria e poi la utilizzate così ecco fate qualche ricamino perchè ecco così se scioglie ecco fatto e non sprecate niente non sprecate niente via brava gildarella ecco qua eccolo pure i cioccolatini qua eh ci stanno guardate che spettacolo faccio vedere guardate che bello mamma mia buona uno spettacolo uno spettacolo va bene va bene va bene e adesso guardate che bello è uno spettacolo è uno spettacolo bello bellissimo questo pure per il compleanno si 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 a voglia candeline sopra che devo dire sei pronta dai a sfera magica vai dai e dai e dai mucina vediamo alba salvati da tivoli ciao alba bacio eccolo eh poi poi allora poi chi c'è chi c'è allora maria pia donato da torino ciao maria pia bacio io mi sbrigo poi 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 chi c'è chi c'è allora maria teresa germanò dalla sicilia eeeh ciao maria teresa bacio adesso abbiamo celeste chi è vediamo un po' susi ragusa da alessandro dalla germania ciao susi bacio blu 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 celeste mimma errigo da torino ciao mimma bacio mucina mucina vediamo giallo chi è allora grazie maria monardo dalla franza grazie ciao grazie maria ciao bacio ecco qua concita allegri da palermo eeeh ciao concita bacio 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 verde marilena marilena santozzi da pescara ciao marilena bacio grande adesso vai col fucsia come va emily pugliesi da catania ciao emily bacio 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 a tutti e adesso un saluto a tutti ciao amori miei io li farei tutti e comunque tanti baci grandi a tutti dal cuore e sempre dalla cucina di gilda ciao amori ciao amori e mi raccomando fatelo eh perché guardate quanto è bello ma questo è troppo buono grazie grazie infinite ciao